Un pluri pregiudicato già sottoposto a regime di sorveglianza speciale ad Alghero è stato sorpreso ieri sera dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Sasseri mentre spacciava eroina. Le fiamme gialle accortesi che in una zona in penombra stava avvenendo uno scambio tra il pluri pregiudicato e un secondo individuo sono immediatamente intervenute. Il pluri pregiudicato si è quindi dato alla fuga liberandosi di diversi involucri ma grazie anche all'intervento di un'ulteriore pattuglia è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Con l'impiego di un'unità cinofila gli involucri contenenti complessivamente 15 dosi di eroina sono stati tutti recuperati. I militari hanno provveduto all'arresto dell'uomo che oggi viene processato per direttissima. Il secondo individuo che aveva ingerito l'involucro di eroina appena acquistato era stato invece accompagnato al pronto soccorso della città catalana. L'intensa attività dei militari della guardia di finanza specie con l'impiego dell'unità cinofila in forza alla compagnia di Alghero ha permesso da luglio a oggi di denunciare 11 persone per detenzione ai fini di spaccio e di segnalarne altre 69 per uso personale di sostanze stupefacenti.